Quanti giga hai nel PC? In totale? Eh, per curiosità Eh, 500 Sono tanti Dario Cazzo ma pesa 125 giga Io ho 7 giga liberi Ma scusa ma hai detto ora che c'hai 500? Sì ma liberi c'erano 7 Questo pesa 125 giga Solo il gioco Luca ma come fai a averne Ma disinstalla forza Ma poi come fai a averne 7 liberi? Di quando hai il PC? Eh Luca, quanto te lo sei fatto il PC? Eh, 6 mesi fa Non può avere 500 giga Fammi vedere un attimino Streamami uno stesso Luca, ma ti sei fatto il PC 6 mesi fa E c'ha 500 giga seriamente? Basta? Eh, se è pieno Ho preferito una scheda più potente E meno memoria Sei un co***o Allora, Luca C'è te Ciao un Kate Ciao un astshow Ciao un date Ciao un po' Buケ Ciao un to affirme Come un oggi Ciao un... io mi piace